Dal super computer di Cineca ai nuovi algoritmi LLM, a che punto siamo con l'intelligenza artificiale per tutti in italiano? Beh, direi che siamo a buon punto. È stato fatto un primo rilascio di un modello di linguaggio in italiano che da parte di una start-up che ha utilizzato la nostra infrastruttura che non solo è in italiano ma è gratuito, è open e rispetta i principi dell'AI Act, quindi il set di dati non solo è filtrato per evitare dei bias ma non viola nessun diritto d'autore. Non è l'unico, ci sono altri soggetti sia accademici che del mondo privato che stanno allenando grandi modelli non solo di linguaggio, quindi anche legato all'immagine e ai suoni sulla nostra infrastruttura e nei prossimi mesi saranno previsti altri rilasci, quindi devo dire che in questo momento l'ecosistema italiano sta rispondendo sia accademico che privato. In tema di sicurezza dei dati, di equità, di privacy, quanto è importante il rapporto con l'Europa? Il rapporto con l'Europa è fondamentale, direi indispensabile, perché questa tecnologia è una tecnologia che ha bisogno che ci si metta insieme, si faccia squadra, perché c'è bisogno di grandi moli di dati, di enormi infrastrutture, c'è bisogno di grandi investimenti, quindi è una tecnologia che non può essere affrontata da soli e questo si può leggere su più livelli, quindi da un punto di vista delle infrastrutture e di alcune regole generali non può essere che l'Europa il perimetro di riferimento, perché nessuno Stato ha una capacità di competere su scala globale, nessuno Stato europeo ha la capacità di competere su scala globale se non nel perimetro europeo. Devo dire che, come sta accadendo oggi, l'Europa può essere la carta con cui provare a cogliere davvero per il vecchio continente le opportunità di questa grande sfida che abbiamo di fronte.